Foggia-Boscaglia, fine del matrimonio. Ora c'è l'ufficialità sancita da poche righe di un comunicato del club. Ieri sera, a margine di un'altra lunga e travagliata giornata, le parti hanno raggiunto l'intesa per la risoluzione del contratto che legava il tecnico al Foggia fino al prossimo 30 giugno. Boscaglia, che né lunedì né ieri aveva diretto gli allenamenti, paga i cattivi risultati di una squadra partita per vincere ma ritrovatasi nei bassi fondi dopo cinque giornate di campionato in cui sono arrivate ben tre sconfitte, una sola vittoria ed un pari. La risoluzione con Boscaglia, ufficializzata stamane ma di fatto sancita ieri sera, non ha comunque placato l'ira di chi, nella notte, ha fatto esplodere un petardo nel giardino dell'abitazione del tecnico. Fortunatamente non ci sono state conseguenze se non un danno causato ad una finestra dalla deflagrazione dell'ordigno. Boscaglia, al momento dell'accaduto, era solo nella sua abitazione di Viale Europa. Sul fatto indagano i carabinieri, che stanno passando al setaccio le telecamere presenti nella zona. Da oggi, intanto, per il Foggia si apre un nuovo capitolo. A chi toccherà prendere il posto dell'allenatore Siculo nel tentativo di guarire in fretta e furia, una squadra che appare smarrita e senza idee? Il giro di orizzonti del club del presidente Nicola Canonico è cominciato. Tanti sono i nomi accostati al Foggia, anche quello di Marchionni, una vecchia conoscenza del popolo rosso-nero. Nelle prossime ore, il Foggia avrà comunque un nuovo timoniere. Nessuna ipotesi va esclusa. Un nuovo allenatore che potrebbe sedere in panchina già sabato nel derby, in programma allo Iacovone di Taranto.